Promosso in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Viraforst vi augura buona visione di 2M al quadrato. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con 2M al quadrato. Oggi ci occupiamo di un evento unico a livello europeo. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von 2M hoch 2. Heute geht es um ein in Europa einmaliges Projekt. Alpe di Siusi Winter Music Festival Swing on Snow. 23 concerti su 8 giorni di programma per gli amanti della buona musica e dei panorami mozzafiato. Saisa Alm Winter Music Festival Swing on Snow. 23 concerti su 8 giorni di programma per gli amanti della natura e di particolare musica. Jetzt sind wir ganz oben auf der Saisa Alm. Hamma mal rein was Swing on Snow denn ist. Siamo qui in cima all'Alpe di Siusi. Andiamo a sentire che cosa è Swing on Snow. Swing on Snow Durante la giornata come vedete la musica si può ascoltare fuori dalle baite e lungo le piste da sci per il piacere degli ospiti. Alla sera invece l'appuntamento si sposta a Castelrotto, Siusi, Felosciglia e anche a Castelbreisolo. Tagsüber finden die concerte hier auf der Saisa Alm Stadt. Und abends in Castelrot, Saisa, Fölz am Stern und Schloss Brösels. Mit dieser wunderbare Musik und diesem grandiosen Panorama verabschieden wir uns von der Saisa Alm. Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2. Con questi panorami mozzafiato, con queste note incantevoli, vi salutiamo dall'Alpe di Siusi e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti con 2M al quadrato. Promosso in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Ci vediamo alla prossima puntata di 2M al quadrato con Birra Forst. Buona perché ha sempre vissuto qui.